Amici tre spettatori, benvenuti al Un'altra puntata di non solo politica, ospiti nel nostro studio, perché stasera parliamo di un argomento particolarmente interessante perché esistono molte realtà nel nostro paese, non soltanto, che è bene conoscere anche per essere informati di queste novità o di queste situazioni che non sono poi così conosciute dal grande pubblico. Ce ne parlerà il dottor Giuseppe Zampino, qui al mia sinistra, che è responsabile del Centro Malattie Rare e difetti congeniti, soprattutto nei bambini. Il professore lavora al Policlinico Agostino Gemelli. A mia destra l'Avvocato Fabrizio Abbate, il nostro esperto, il nostro Virgilio nel mondo della sanità, che è presidente della Asso dei Vitti. Dottor Zampino, ci parli un po' di queste malattie rare che sono, quindi essendo rare, sono non molto conosciute, però purtroppo quando capitano il problema è duplice, anche perché ci si trova molto spesso di fronte a delle situazioni, forse anche per lei, non del tutto chiare. Le malattie rare sono delle condizioni definite rare per un criterio epidemiologico, cioè quelle condizioni che hanno una prevalenza di 1 su 2.000 persone. In realtà in questo criterio epidemiologico c'è una realtà molto variegata di condizioni, se ne conoscono tra 6-8.000 condizioni, che impattano fortemente nella sanità, per cui pur essendo condizioni singolarmente rare, nel loro insieme invece diventano un problema di sanità pubblica importante. Per esempio si è calcolato che circa un bambino su 200 ha una condizione sindromica congenita, significa che in Italia circa sono 50.000 i bambini che hanno tra 0 e 17 anni una condizione congenita. E se noi immaginiamo che una condizione congenita, quando è presente la famiglia, coinvolge e destruttura i genitori, i noni, e roba varia, e immaginiamo che una condizione del genere coinvolge un'intera famiglia, un'intera famiglia, mettendo di una quantità X di persone, significa che vengono coinvolte almeno 300.000 persone nell'interno dell'insieme. Questo significa che viene coinvolto un'area importante, come una regione, una piccola regione. Che intende per situazione congenita? Le condizioni congenite sono condizioni che sono presenti alla nascita, ma non solo, possono essere anche evidenti più tardi, le cui cause possono essere su base puramente genetica, oppure dall'interazione di fattori genetici e ambientali, oppure possono essere indotti direttamente da fattori ambientali, come alcuni teratogeni. Possono essere malformativi, cioè le classiche malformazioni come la cardiopatia, la spina bifida, oppure possono essere problemi funzionali. Queste sono più conosciute, spina bifida e cardiopatia sono più conosciute. Non possiamo definire le rare, penso, no? No, però quando parliamo di condizioni rare sono quelle condizioni che all'interno hanno anche cardiopatie, altri difetti di varia natura. E poi ci sono i difetti funzionali, come per esempio la sordità, il ritardo mentale, cioè ciò che non fa funzionare adeguatamente il nostro organismo. Senta, e queste malattie spesso sono congenite? Sono croniche per lo più? La maggior parte delle malattie rare sono condizioni croniche e durano tutta la vita, quasi tutte le condizioni congenite sono condizioni croniche. E lì c'è un primo elemento che fa pensare a come si approccia diversamente un bambino o una persona che ha una malattia rara, una condizione congenita rispetto a quella che è la malattia normale. La malattia normale noi la combattiamo, cioè se uno ha una tubercolosi, ha una leucemia, ha un linfoma, noi combattiamo quella malattia. Nelle condizioni congenite il malato, che è il bene assoluto che noi dobbiamo proteggere e la malattia, che è il male assoluto che noi dobbiamo combattere, un po' stanno la stessa cosa, cioè Marco con la sindrome di Down, è vero che ha la sindrome di Down, ma lui stesso ha questa condizione. Per cui devi da una parte cercare di controllare la malattia, da un'altra parte fare in modo che venga accettato il malato. E più di malattia io definirei questa proprio una vera e propria condizione, uno stato di vita, un essere così, che in qualche modo devi accettare ma controllare anche in tutti gli esiti. Certo che nel momento in cui io riesco a trovare un rimedio per combattere la malattia, allora posso definire la malattia, ma fino a quando malattie e malato coincidono la considererei più una condizione. Avvocato Abbate, stiamo parlando di malattie rare, cosa può fare? L'asso dritti nel senso che il professor Zampino molto chiaramente ha detto che sono malattie rare, tante volte non si conoscono, sono congenti, sono croniche, quindi un grosso problema per la sanità che peraltro è già appesantita fortemente da altri problemi. Intanto, l'asso dritti, siccome sostiene che bisogna in tutti i modi difendere il sistema sanitario nazionale a copertura universale, è particolarmente interessato a questo tipo di malattie che sconvolgono, che riescono di sconvolgere la vita delle famiglie e che hanno bisogno di uno speciale e diciamo aggiuntivo di solidarietà e di sostegno. E questo è un primo fatto. È importante che esista per esempio un centro come questo qui, perché fa da riferimento, perché noi dobbiamo pensare che le famiglie hanno un duplice problema, quello della malattia e che poi è una prospettiva anche di lunga durata, ma poi soprattutto una specie di solitudine, cioè se non hanno qualcuno a cui rivolgersi, a cui fare le domande, da cui ricevere risposte adeguate, il sistema nazionale in generale non è tarato esattamente per dargli queste risposte. Quindi è importantissimo che ci siano questi centri e che vadano sostenuti. Quindi il nostro ruolo molto modesto è di parlarne, invitare la politica e le istituzioni a sostenerle sia finanziariamente sia anche organizzativamente. Non è molto, ma insomma è importante. Professore, parlando prima delle malattie, si accennava al fatto che oltre ad essere croniche, che oltre ad essere congenite, molte, sono anche disabilitanti e questo crea ulteriori problemi non soltanto a coloro che purtroppo non sono colpiti, ma anche alla famiglia e direi anche alla società. Si pensa alle scuole, per esempio, dove ci sono questi ragazzi che magari non sono del tutto normali, ma non certo per colpa loro. Quando lavori con bambini o persone con disabilità, il ruolo del medico è un ruolo che non può essere solamente rinchiuso nelle quattro mura di un ambulatorio, ma sicuramente una parete dell'ambulatorio deve essere aperta sul territorio dove il bambino e la famiglia vive, perché tutti i progetti riabilitativi e non solo riabilitativi che vengono poi dati al bambino e alla famiglia poi devono essere valutati nella loro sostenibilità sul territorio. E quindi, diciamo, quello che deve fare un medico è aprire la sua porta verso un settore, che è il settore sociale, che è necessario intervenire per poter garantire il miglior stato di salute del bambino, nel senso che esiste per esempio una malattia rara, si chiama sindrome di Crisponi, in cui i bambini hanno difficoltà a termoregolare, quindi hanno difficoltà a mantenere la temperatura e hanno bisogno di avere come assistenza un ambiente sempre alla stessa temperatura. A questo punto, se io devo fare un atto medico, il mio atto medico non è prescrivere le medicine, ma chiamare la scuola e dire al preside di mettere l'area condizionata dove vive questo bambino, perché solo così potrà sopravvivere. Questo quindi è un atto da una parte medico e da un'altra parte un atto sociale, diciamo, un intervento sociale. Quindi c'è anche un discorso di complessità di queste malattie? Queste malattie sono complesse per diversi motivi. Prima di tutto perché chi ne ha affetto ha numerosi problemi. C'è bisogno quindi che molti specialisti in qualche modo lavorino e devono lavorare in maniera integrata, perché altrimenti se ognuno dà un trattamento e questo trattamento in qualche modo non è coordinato all'altro, può diventare non sostenibile per il bambino e la famiglia. Questo è un ordine di complessità, quindi la multidisciplinarità ha molte problematiche. La complessità sta anche nel fatto che non esistono riferimenti medici, farmacologici, terapia ben strutturati, per cui mentre per gestire un otite in un bambino lo sai come devi fare, se hai un bambino con una malformazione craniofacciale, la gestione dell'otite non è la stessa cosa. Né tantomeno ci sono gli studi che dicono che per un bambino con difetto craniofacciale è utile dare questo farmaco. Quindi in qualche modo c'è una maggiore variabilità di intervento, è una più grande, più alta difficoltà nel trovare riferimenti per gli interventi. La complessità sta anche nel fatto che hai di fronte una famiglia fragile in qualche modo, quindi hai bisogno di comunicare e stare molto vicino alla famiglia nell'accettazione del proprio bambino. E quindi la fragilità si coniuga come uno degli elementi di complessità. Complessità anche nel fatto che se io devo fare un elettrocardiogramma a un bambino o a un ragazzo, non ci metto nulla, lo stendo su un lettino e faccio un elettrocardiogramma. Quando io ho un bambino con un'iperattività, con un ritardo, metterlo su un lettino e convincere di fare un elettrocardiogramma può essere veramente difficoltoso. A quel punto io ho necessità di avere un anestesista che mi seda il bambino. Quindi il costo di quella procedura, anche per il sistema sanitario, diventa diverso rispetto a quello di un bambino che non ha problemi. Senta, quante sono, più o meno se si può fare una statistica, un numero, se si può dare un numero, quante sono le malattie cosiddette rare nel mondo? A questo punto parliamo del mondo. Le malattie rare non c'è una definizione precisa di quante ne sono ad oggi. Si calcola circa 6.000-8.000 ma ogni settimana vengono descritti almeno 5 o 6 nuove condizioni congenite nuove. Quindi è sempre un crescere di condizioni perché la tecnologia ci permette sempre meglio di dettagliare alcune condizioni e quindi in qualche modo frammentarle. E quindi aumentano nel tempo il numero delle patologie rare. La tecnologia, la medicina che è sempre più agguerrita, si riescono a curare perlomeno alcune di queste malattie cosiddette rare? Sì, sì. La ricerca è sia nel comprendere l'eziologia di queste condizioni e il meccanismo per cui una causa determina la malattia. Questo è un obiettivo affinché poi si riescano a trovare farmaci o sistemi che in qualche modo contengano o neutralizzano la malattia o la condizione. Il punto della questione è che quando ti trovi di fronte a una condizione rara hai difficoltà a reperire un numero abbastanza importante di soggetti che ti permettono di giustificare o ti permettono di costruire un clinical trial vero e proprio. Oppure l'industria su questo può avere una qualche difficoltà a trovare e investire risorse per fare in modo che vengano utilizzate per una condizione che ha 6, 7, 8 bambini descritti al mondo. E tra le altre cose è difficile poi metterli insieme perché un bambino sta in Astralia, due stanno in Sardegna, uno sta in Cina e anche tutto il mondo che sta intorno a loro cambia. Quindi la rarità può essere un elemento molto difficoltoso nel trovare trattamenti. Però è anche una grande sfida, una grande sfida che mette insieme molte culture e che mette a necessità di creare interazioni. Quindi questa sfida non è solo una sfida tecnologica ma anche una sfida fortemente umana. Avvocato Abbate, il dottor Zampino ha toccato un punto particolarmente importante. La ricerca, come lei sa, è costosissima. Se ovviamente il risultato è indirizzato soltanto a un piccolo numero di eventuali utenti, è chiaro che le case farmaceutiche non hanno interesse a sviluppare la ricerca in quel campo. Diceva il dottor Zampino, uno in Astralia, due in Sardegna, uno in Cina e così via. Quindi non hanno interesse a trovare il farmaco per curare quello. A questo punto bisogna rivolgersi però a chi? All'Europa, all'Organizzazione Mondiale della Sanità. Qualcuno dovrà anche intervenire per questi casi specifici. Intanto devo dire che questo problema, oltre che la ricerca, comporta anche per l'assistenza. Cioè ci sono dei problemi di costi. Questi problemi di costi li abbiamo incontrati in tutti i nostri dibattiti. E' uno degli incentivi ad allocare bene le risorse. Cioè noi dobbiamo fare dei risparmi non a caso sulla sanità, ma mirati a poter dare le massime prestazioni anche e soprattutto a casi di maggiore difficoltà. Questo è il primo punto. La ricerca. Qui non ci si può affidare solo alla componente dell'impresa. Perché l'impresa ha bisogno di numeri e ha bisogno di ritorni economici. Però c'è anche un forte intervento della ricerca pubblica che dovrebbe correggere questo trend che è naturale. Io aggiungo, chiaro che le imprese e le aziende si dedicheranno ai prodotti che possono avere maggior smercio. Ma appunto noi vogliamo che una parte della ricerca sia guidata dall'università, dai centri di ricerca. E secondo me mettendone assieme molti a livello multinazionale, ebbè allora a quel punto si possono trovare delle risorse per proseguire le ricerche in questo campo, che poi hanno ricadute anche in altri campi. Però questo va detto. La ricerca specifica può essere mirata al caso, però poi si trovano tutta una serie di ricadute utili. e quindi viene anche un bene di ritorno a tutta la comunità. Non so se il professore è d'accordo. Vero, vero. Un'altra cosa è che la comunità europea stanzia dei fondi affinché venga fatta una ricerca farmacologica. Appunto per questo motivo, cioè le malattie rare sono rare anche perché sono orfane di trattamento e perché appunto l'industria non ha la possibilità di investire, però su questo la comunità europea dà dei contributi affinché la ricerca venga comunque sviluppata, anche nella parte dell'industria privata. Lei prima parlava di multidisciplinarietà, cioè un coinvolgimento di più soggetti per curare questi bambini. costi, tempi, sicuramente è un impegno molto gravoso, non soltanto per il suo centro, ma un po' per tutta la società. La multidisciplinarietà significa che c'è necessità di uno scambio di idee, di informazioni e devi parlare con tutti i colleghi in qualche modo, trovare poi un piano e ogni piano... e anche un preside addirittura per la gara condizionata, le scuole non c'erano manco, figuriamoci, manco la ventola, per cui sarà un problema mandare un bambino di questi in una scuola. Però lì si gioca anche tutto quello che siamo, diciamo. Quando hai un progetto, quando hai un bambino con tanti problemi devi dargli delle priorità, cioè quali sono i problemi che maggiormente colpiscono il bambino e ovviamente la sua famiglia e su quelli devi lavorare per primi, non solo perché sono prioritarie dal punto di vista dello stato di salute, ma anche che sono prioritarie dal punto di vista generale di sostenibilità. E quindi ogni volta che fai un progetto sul bambino deve essere un progetto che sia in qualche modo integrato e sostenibile. Integrato significa che tutto quello che gli specialisti d'organo hanno definito come importante, e poi in qualche modo lo devi coniugare all'interno di quello che è il bambino stesso e la sostenibilità che ha di tutte quelle necessità. Nel senso che se un bambino deve fare una tracostomia, deve mettere il bustino, deve mettere il plantarino, deve mettere gli occhiali, deve mettere la protesi, se interveniamo su tutti questi organi, contemporaneamente potremmo non arrivare a fare il benessere del bambino. Cioè potrebbe essere sostenibile per il bambino. Allora a quel punto è necessario, con una discussione collegiale, capendo le priorità del bambino e della sua famiglia, scegliere il piano, definire, delineare un piano terapeutico che è calcolato ed è definito proprio sul bambino stesso. Quali altri soggetti per lo più intervengono in alcuni casi, quelli più comuni? Cioè il fisioterapista, non so, un altro medico che sia... Tutti, tutti. Un bambino con una cerepropatia ha bisogno del pediatra, del neuropsichiatra, il riabilitatore, il fisiatra, il neurochirurgo, il genetista, il dismorforo, il gastrointestino. Molto spesso vengono curati qui in ospedale oppure diciamo... C'è un proverbio africano che dice che per far crescere un bambino ci vuole un intero villaggio. Per gestire un bambino complesso ci vuole un intero policlinico. Tutte le risorse di un policlinico devono essere a disposizione per poter gestire tutti i numerosi problemi del bambino. E su questo però è necessario anche fare un lavoro di integrazione. Questo richiede molto tempo e molta energia. Da quello che sta venendo fuori questa sera, ovviamente da un lato abbiamo queste malattie rare. Come diceva l'avvocato Abate, non è sempre facile trovare risorse perché le case farmaceutiche onestamente non hanno interesse a sviluppare una ricerca per dei casi così isolati. D'altra parte però ci spaventiamo nel sentire questa massa di protagonisti, di attori che vengono coinvolti. Questo significa tempi, significa costi, significa difficoltà di ogni genere per la struttura sanitaria, non soltanto per il policlinico. Certo, è certo. C'è necessità di dedicare e allocare delle risorse specificamente per questo tipo di patologia. C'è questa possibilità, diciamo. La comunità europea e anche l'Italia... E infatti spesso sto parlando della comunità europea, quindi vuol dire che c'è un interesse anche da parte dell'Europa. Quindi interesse significa fondi, convegni, significa altri personaggi in altri paesi che se ne interessano. Sì, sì, sì. Il punto centrale è che quando noi parliamo di malattie rare vanno via i nazionalismi e quindi devono andare via anche i regionalismi perché c'è bisogno di creare una struttura integrata di gestione. Proprio come dicevamo prima, se io ho un bambino con una condizione rara che uno sta in Calabria, l'altro sta in Veneto, altre tre o quattro stanno sparsi per l'Italia, l'unico modo per far passare conoscenza è cercare di fare integrazione. Il problema della rarità è un problema essenzialmente di informazione. Cioè, faccio un esempio. Quindi stasera stiamo facendo una premeritoria? Assolutamente sì. Ritornando al discorso della malattia della sinome di Crisponi, quella condizione che dicevo c'è un difetto della regolazione termica. Ora, quando nasce un bambino... Sì, scusa, difetto della regolazione termica. Cioè, vuol dire, quando sta al caldo, sente più caldo? Quando sta a caldo ed è piccolino, se supera una certa quantità di gradi, può avere un'ipertermia che lo può portare a morte. Ah, dì. Su una quarantina di casi descritti, una trentina sono morti per crisi ipertermica da caldo. Perché a casa faceva molto caldo. Non ci arrivano neanche a casa, perché nascono e vengono messi in incubatrice, l'incubatrice serve per riscaldare. Essendo una condizione rara, uno non sa riconoscerla ed è giusto mettere in incubatrice un bambino che sta male. E questo fa partire una crisi ipertermica che porta a morte il bambino. Ora, che significa? Ammettendo che il bambino si salve e vada a casa. Ora, quando nasce un bambino, la mamma sa fare un bagnetto, perché lo mette nell'acqua a 37 gradi e sa fare. Se non lo sa fare perché è una giovane mamma, non l'ha visto mai fare, lo chiede alla nonna, lo chiede alla mamma, lo chiede all'enturaccio, lo chiede alle reclame della televisione. Tutti sanno definire come si fa un bagnetto a un bambino. Quando nasce un bambino con la sinome di crisponia, la mamma torna a casa, a che temperatura mette l'acqua? A chi lo chiede? Quindi, come per dire che essere raro significa non avere da parte della famiglia anche l'informazione necessaria e vitale per sopravvivere. Perché manca? Perché nella rarità non c'è l'informazione. Ci sono alcune di queste malattie rare per le quali se non siete trovate delle cure? Ci dia un po' di qualche buona speranza, qualche buona notizia. Ce ne sono tante, ci sono molte condizioni enzimatiche, molte condizioni immunitarie, molte condizioni neuromuscolari, che è un continuo, come c'è un continuo scoprire nuove condizioni, così c'è un continuo definire trattamenti. Trattamenti che sono sia trattamenti esiologici, cioè eliminare la causa e fare in modo che la malattia in qualche modo scompare, ma anche trattamenti di tipo sintomatico nuovo, per esempio, o una situazione di ipertermia come quella della sinome di crisponi, non gli do la tachipirina perché non è una da febbre, ma gli do un farmaco che è particolare, si chiama minoxinidina, che praticamente inibisce l'ipertermia. Insomma, il movimento della scienza è continuo, fortunatamente, ma la sfida però che si gioca è una sfida informativa. A questo punto sono fondamentali le associazioni di genitori, perché quando un genitore ha una diagnosi si sente una specie di mosca bianca, pensa che il suo figlio è un marziano, non ha punti di confronto. Il fatto che ci siano delle associazioni di genitori ti dà un grandissimo sollievo perché hai dei punti di riferimento che in qualche modo hanno già vissuto il tuo problema e che in qualche modo ti possono aiutare nel risolvere i tuoi bisogni che esprimi al medico, ma che puoi anche non esprimere. Per cui probabilmente la mamma a me non chiederà mai come faccio il bagnetto a mio figlio, del resto avrei pure difficoltà a definire come fare il bagnetto al figlio. Mentre se una mamma con la sinome di crisponi è riuscita già a superare il problema facendo di questo un'esperienza che può portare avanti, può diffondere, a quel punto altre famiglie tramite le associazioni possono fare di questa informazione un tesoro assoluto. Un minuto per concludere, Avvocato. E quindi io mi riallaccio immediatamente. Intanto il ruolo del volontariato in questo campo, il ruolo delle famiglie che non si devono isolare, ma anzi creare circuiti perché tutte assieme, non solo sulla singola sindrome, sulla singola malattia, possono anche fare massa critica e sensibilizzare l'opinione pubblica e mobilitare ragionevolmente, perché abbiamo detto ragionevolmente, però seriamente le risorse necessarie. La domanda che mi stava per scappare da quello che tu hai chiesto al professore è ma in questo momento i rimborzi che il Sistema Sanitario Nazionale dà a questo tipo di assistenza sono adeguati? Questo è un bel punto interrogativo. E faremo un'altra trasmissione. Comunque è importante quello che ha detto, Avvocato, anche perché a suo diritto potrebbe fungere da ponte o da catalizzatore per queste famiglie che naturalmente potrebbero avere questo tipo di interesse. Grazie al dottor Giuseppe Zampino, responsabile del centro malattie rare e difetti congeniti, soprattutto nei bambini, del Policlinico Gemelli. Grazie all'Avvocato Abbate, al Presidente Assodritti e naturalmente grazie a tutti voi per il coltese ascolto. Arrivederci ad un'altra trasmissione di Non Solo Politica. Grazie a tutti.